Sette coltellate tra addome, zona del cuore e collo. Ha sfogato così la sua rabbia e la sua gelosia nella maniera più violenta. Adrian Jacob, 33 anni, romeno, convivente della donna al centro di questa presunta contesa amorosa, una 39enne madre di quattro figli con la quale la vittima dell'aggressione, 44 anni, di nazionalità romena, aveva avuto una relazione sentimentale in passato. L'uomo ora si trova ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, seppur stazionare, vengono definite gravissime dai medici. Jacob, invece, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'accoltellamento ieri sera ha chiesto di poter vedere la ex fidanzata. La donna è uscita di casa per incontrarlo, ma Jacob, insospettito, ha deciso di seguirla. Il 33enne, una volta accertatosi dell'incontro tra i due ex fidanzati, ha fatto esplodere la sua rabbia sferrando da primo un pugno alla donna e facendole cadere alcuni denti, poi estraendo un coltello che ha vibrato contro il 44enne che ha avuto la peggio. La vicenda si è verificata attorno alle 20, in una zona non distante dal depuratore di Corropoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Teramo e della stazione di Corropoli, oltre al 118 che ha soccorso l'accoltellato e la donna, nel frattempo ricoverata Giulianova. Jacob per alcune ore ha cercato protezione a casa di un connazionale, entrando ancora con il coltello in mano sporco di sangue. L'uomo però lo ha invitato ad andarsene gettando l'arma bianca dalla finestra. Nel frattempo i carabinieri che si erano messi sulle tracce del fuggiasco lo hanno arrestato un paio di ore più tardi mentre cercava di scavalcare una recinzione. Aveva gli abiti sporchi di sangue ma ha continuato a negare ogni addebito.